Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara-Pegne. Esportazioni a picco nel 2014 nel settore del tessile e abbigliamento, lo certificano i dati elaborati da Aldo Ronci per la CNA abruzzese. Buono l'export per tutti gli altri settori produttivi che a fine 2014 hanno fatto registrare un incremento di 198 milioni di euro rispetto al 2013, un 2,9% di aumento contro una media nazionale del 2%, grazie soprattutto alle performance dei mezzi di trasporto. A fine 2014 il calo più importante nell'ordine di 70 milioni, pari al 33,2% rispetto al 2013, è stato quello del comparto dell'abbignamento. Tra ottobre e dicembre la flessione è stata parzialmente contenuta. Dieci famiglie evacuate per una frana che avanza in modo rapido portandosi dietro fango e alberi nelle frazioni di Ripe e di Civitella, Civitella del Tronto nel Terramano. Sul posto i tecnici della protezione civile e i geologi dell'Università di Firenze. Al lavoro da giorni i tecnici della protezione civile regionale. Verranno reperite risorse immediate, ha spiegato il Presidente D'Alfonso, per un primo intervento. L'intersindacale sanitaria proclama lo stato di agitazione del personale medico ed infermieristico ed invoca l'intervento del Prefetto dell'Aquila per raffreddare la protesta contro i ritardi del Commissario della Sanità D'Alfonso. In contemporanea la NAO Assomed, cioè il sindacato più rappresentativo dei medici ospedalieri, lancia l'allarme e parla di pericolo di sgregazione del sistema sanitario abruzzese, il che mette a rischio la salute dei cittadini abruzzesi e il lavoro di tutti i medici e gli operatori della sanità. L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci replica le critiche, ricordando che la priorità assoluta è l'uscita dal commissariamento e che in questi mesi di governo non c'è stato immobilismo. Con il Commissario D'Alfonso ho dovuto affrontare le molte inadempienze di chiodi che il tavolo romano ci sollecita continuamente, dalla compartecipazione alla spesa dei ricoveri nelle strutture assistenziali ai punti nascita, alla REMS, ai contratti con le case di cura private. Non sono stati argomenti facili, afferma Paolucci, viste anche le resistenze politiche dell'opposizione, proprio quella che è responsabile, secondo Paolucci, dei ritardi. Domani in Consiglio regionale sapremo se il Presidente D'Alfonso intende veramente affrontare e contrastare il gravissimo dissesto idrogeologico del Comune di Montesilvano e con quali misure finanziarie o se intende continuare a escludere inspiegabilmente la cittadina adriatica dalla fornitura dei fondi. Dovrà rispondere all'interpellanza che ho presentato nei giorni scorsi per obbligare l'esecutivo regionale a dare risposte definitive non solo a Forza Italia, ma a una popolazione in ansia per quelle frane che minacciano abitazioni e cittadini. Lo dice il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Oltre 800 alunni di 15 scuole di Chieti e della provincia hanno dato vita nel capoluogo alla Marcia della Memoria e dell'Impegno, iniziativa istituita dall'Associazione Libera nel 1995 in ricordo delle vittime della mafia. Gli studenti in corteo hanno raggiunto Piazza Valignani dopo aver percorso Corso Marruccino portando striscioni e cartelli ispirati ai temi della legalità. Un importante provvedimento è stato preso nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Pescara in merito all'apertura notturna dei locali cittadini. Una delibera di recente approvazione è infatti stabilito che i locali della movida notturna potranno rimanere aperti fino alle 5 del mattino, cioè un'ora in più rispetto alla consuetudine sinora in vigore. In alcuni giorni festivi, il 24, 25, 31 dicembre e il 6 gennaio, il 14 febbraio per San Valentino, l'ultimo giorno di carnevale, il 15 agosto e il 31 ottobre, sarà inoltre concessa la proroga di un'ulteriore ora in più, ossia la possibilità di restare aperti fino alle 6. In ogni caso rimarrà immutata la norma che vieterà la vendita di alcolici oltre le 3. Fino al 20 aprile alle 12 a Monte Silvano si potrà fare domanda sull'affidamento della gestione del Parco Comunale Papa Giovanni Paolo II. Il giardino di Via Gramsci comprende struttura, chiosco, bar senza servizi, arredo giochi nelle aree per bambini, pista da ballo e area sgambettamento per cani. La gestione di 4 anni potrà essere affidata a persone fisiche, consorzi, cooperative o associazioni. Gli affidatari dovranno occuparsi di manutenzione ordinaria del parco, strutture e attrezzature, inclusi sfalcio dell'erba, cura delle aiuole e delle siepi, innaffiamento dei prati, svuotamento dei cestini e pulizia giornaliera. Una storia lunga a 60 anni, costellata di incontri felici, quadri a olio e tempera, disegni e maioliche che testimoniano tutte le maggiori avanguardie novecentesche, con un occhio a Picasso e uno a Pineto. Questo è il contenuto della materia, della mostra, scusate, voluta dalla Fondazione Edoardo Tiboni per la cultura e patrocinata dal Comune di Pescara. Anna Dell'Agata, dipinti, sculture e altre tecniche, Selezione Antologica 1955-2015, che sarà inaugurata il prossimo 25 marzo, alle 17.30, al Media Museum di Piazza Alessandrini a Pescara. E continua il ciclo di appuntamenti che vedono impegnati, insieme, bambini dagli otto anni in su, e genitori, in un viaggio nel tempo alla scoperta dei più bei capolavori della storia dell'arte, ad una miniconferenza ricca di immagine pensata proprio per i più giovani, farà seguito un laboratorio in cui, come in un vero e proprio atelier, bambini e genitori realizzeranno ognuno vari soggetti con una diversa tecnica artistica. Prossimo incontro, previsto per domenica, 29 marzo, dalle 16 alle 19, consigliata la prenotazione al numero 0854510026. Ripetiamo, 0854510026. Questo il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13.30. Il martedì e giovedì, invece, dalle 15 alle 18.00. Si può anche scrivere a museo-gentidabruzzo.it Ripetiamo, museo-gentidabruzzo.it E siamo alle previsioni del tempo. Stasera, su Pescara e Provincia, si prevedono nubi sparse con temperature da 8 a 12 gradi sulla costa e da 7 a 10 gradi nelle zone interne e venti deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 10 a 15 gradi e venti deboli al mattino e moderati nel resto della giornata e nelle zone interne possibilità di pioggia con temperature da 10 a 14 gradi e venti deboli al mattino e moderati nel resto della giornata. Il mare è previsto da poco mosso a mosso stasera e poco mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono una tascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti! Grazie a tutti